Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti a questa lezione sul dialogo socratico. In questa prima lezione parleremo della famosa affermazione socratica, il sapere di non sapere, e della conseguente ricerca con cui, secondo Socrate, coincide il filosofare, e di quella che Manoli chiamano la prima fase del dialogo socratico, l'ironia, la fase per così dire catartica. Per spiegare Socrate mi avvarrò di questa mappa che ho realizzato con Google e che condividerò indicando il link nel box informativo del video. Bene, in primo luogo il sapere di non sapere socratico dà un po' il senso complessivo della strategia filosofica di Socrate, che è una strategia di tipo fondamentalmente comunicativo, ma che è impostata su un preciso metodo di comunicazione. Il dialogo. Prima di tutto la professione del non sapere, la famosa affermazione, so di non sapere, con cui Socrate è passato alla storia, accomuna in qualche modo Socrate a quella che è l'atmosfera del periodo. Siamo ad Atene, siamo intorno al IV secolo a.C. la sofistica, sia nella sua versione più nichilistica, gorgiana, sia nella sua versione protagorea, si muove in un orizzonte che è quello dello scetticismo metafisico. Cosa si intende con scetticismo metafisico? Bene, che non possiamo conoscere la struttura della realtà. Non possiamo conoscere com'è la realtà, al di là dell'apparire nella percezione sensibile, delle immagini, degli stimoli, delle percezioni. E tutto si dissolve in una sorta di relativismo soggettivistico. Ma soprattutto non possiamo conoscere, della realtà naturale si intende, i principi oggettivi. Socrate concorda fondamentalmente con questo scetticismo. Spesso nel Diario di Platon c'è riportata appunto l'affermazione che in gioventù si è occupato dalle scienze naturali e che poi ha abbandonato questo tipo di ricerca perché non conduce a nulla. Socrate invece si occupa dell'indagine sull'uomo, sul bene, sulla felicità. So di non sapere quindi significa che ci sono alcune cose che limitano la ricerca, ma questo non significa che la ricerca è ostacolata, in quanto la ricerca si rivolge nell'ambito del mondo umano e quindi abbiamo quella svolta antropologica che accomuna Socrate ai sofisti. Però si va di bene che in Socrate ciò che viene problematizzato, ciò che costituisce l'oggetto della ricerca, è il metodo stesso della ricerca, come questa ricerca si deve caratterizzare. Quindi la professione del non sapere è anche la condizione della ricerca, in quanto solo chi è consapevole ovviamente di non sapere potrà avviarsi a cercare il sapere, a domandarsi e a porsi i problemi sul mondo umano, sulla felicità, sul bene, eccetera. Fondamentalmente questo significa conosci te stesso. E' il conoscere se stesso che alimenta la ricerca, che è inteso come un dialogo, che è come vedremo un dialogo sia con se stessi che con gli altri, perché, ed è questo l'approccio metodologico socratico, il dialogo è il metodo razionale alla luce del quale il sapere può essere validato e si può passare dal semplice fatto di avere delle idee al fatto di pensare. Pensare non significa avere delle idee. Pensare significa domandarsi il perché di una certa idea, il perché della sua validità, il suo significato, e così via. Quindi, se il sapere di non sapere è la condizione che dà via alla ricerca, la specificità di questa ricerca in Socrate, che lo distingue dai sofisti, è che Socrate pone l'accento sul metodo della ricerca. Attraverso, quindi, un procedimento razionale dobbiamo giungere a fondare o dimostrare la nostra conoscenza, a passare, cioè, ad un sapere che sia consapevole e critico. Quindi, tutti abbiamo delle idee, delle conoscenze, dei gusti e dei valori, perché li abbiamo in modo immediato, li assimiliamo, li acquisiamo attraverso l'educazione, attraverso la frequentazione, di altre persone, attraverso la famiglia, attraverso la scuola. Ma ciò che distingue il sapere tante cose dal comprendere è appunto il problematizzare questo sapere, il chiedersi e il porsi delle domande intorno alla sua validità, e passare ad essere consapevoli appunto delle proprie idee. Quindi, non semplicemente pensare quello che gli altri pensano, fare quello che gli altri fanno, dire quello che gli altri dicono, ma sottoporre al vaglio di un metodo discorsivo e razionale, che fondamentalmente è un'interrogazione costante, il nostro sapere, in modo che diventi un sapere che è frutto del nostro pensare, è frutto di questo metodo. Ecco che si comprende allora perché Socrate insiste tanto sul fatto che lui non insegna a nessuno qual è la verità, ma insegna come arrivare la verità, e il problema è quello della strada che dobbiamo percorrere, e di come la dobbiamo percorrere, non di dove dobbiamo arrivare. Quindi Socrate spesso dirà io non insegno niente a nessuno, ma io sono in grado di aiutare gli altri a percorrere quel sentiero che permetterà loro di estrarre dalla loro interiorità, da se stessi, il proprio pensiero, la propria verità, il proprio punto di vista. Bene, tradizionalmente il dialogo socratico si articola in due momenti, l'ironia e la maieutica. Socrate, personaggio di tanti dialoghi platonici, protagonista di questi dialoghi, intrattiene con i suoi interlocutori delle discussioni, nelle quali li sottopone a tutta una serie di domande, al fine di arrivare a definire un certo concetto. Li interroga su che cosa è il bene, la verità, la bellezza, eccetera. Il problema qual è? Il problema è che Socrate si rivolge a coloro che presumono di sapere, cioè a coloro che hanno la presunzione di possedere la verità. Prima di illustrare quindi l'ironia, però occorre chiarire una premessa. Premessa su cui Socrate si sofferma nell'apologia quando racconta di come un suo amico, Cherefonte, interrogò l'oracolo di Delfi sul fatto se Socrate fosse il più sapiente di tutti i greci, e la Pizia rispose asserendo che Socrate era in effetti il più sapiente. Socrate, ritenendo di non sapere niente, così lui stesso riferisce nell'apologia, decide allora di rivolgersi a coloro che sono ritenuti in una società i più sapienti nei diversi ambiti, nei diversi campi, e di verificare l'oracolo della Pizia, cioè di sottoporli a una interrogazione alta a validare il loro sapere per effettivamente cercare di capire come mai era lui il più sapiente, non quelli che erano ritenuti tali nei vari ambiti come, non so, l'arte militare, la santità, e quindi la religione, la politica, e così via. Quindi Socrate in altri termini sottopone a una serrata critica i potenti, coloro che hanno successo nei diversi ambiti, coloro che sono dotati di potere, questo poi si capisce nell'apologia, è il vero motivo per cui Socrate suscita tanto odio, da cui nascono tante calunnie, che alla fine producono le accuse di Meletto, Anito e Licone, in base alle quali viene poi intentato a lui il processo. Quindi Socrate si rivolge ai presuntuosi, abbiamo detto. Chi sono i presuntuosi? Non necessariamente coloro che hanno idee sbagliate, che hanno credenze false, ma coloro che non giustificano le loro credenze, che le assumono come vere in assoluto, senza mai essersi interrogati sulla effettiva validità di ciò che pensano. Chiaramente il presuntuoso non può essere un interlocutore che si pone sullo stesso piano nostro. Il presuntuoso non ragiona con noi, il presuntuoso parte dal presupposto che lui ha la verità, che noi siamo nell'ignoranza e che quindi deve convincerci che abbiamo torto. Ecco perché Socrate utilizza la tecnica dell'ironia, che è una sorta di simulazione. Ma prima di spiegare questa chiamiamola tecnica, vediamo un po' qual è dal punto di vista comunicativo l'approccio socratico e la cosiddetta brachilogia, cioè il discorso breve, più esattamente il discorso fatto di brevi domande e brevi risposte che si susseguono. Oggetto di questo domandare sono i valori, a seconda di coloro a cui si rivolge, Socrate chiederà quindi cos'è il coraggio se si rivolge a un militare, cos'è la santità se si rivolge a un sacerdote e così via. Il discorso breve è un discorso che chiaramente dà luogo a un dialogo, mentre la tecnica preferita dai sofistici che poi darà luogo all'oratoria è la macrologia, il macroslogos, cioè alla lettra il lungo discorso. È chiaro che il lungo discorso invece parte da altri presupposti e da un'altra premessa, e cioè che io devo convincere della verità della mia tesi quindi il mio uditorio è appunto l'approccio gorgiano soprattutto dell'onnipotenza del linguaggio, per cui in assenza di una verità oggettiva l'unica cosa che conta sono le strategie comunicative con le quali io riesco a, diciamo così, manipolare il mio uditorio per convincerlo di quella che è la verità della mia tesi. Non, in realtà, la mia tesi che sia vera o falsa è indifferente, indifferente. Il problema è convincere, far credere al mio uditorio che sia vera, a prescindere dal fatto che sia realmente vera, dato che per Gorgia sappiamo che non possiamo definire come vera nessuna tesi oppure che sono tutte vere o forse tutte false dato che lui è nichilista, si capisce bene la totale indifferenza della macrologia gorgiana per esempio rispetto alla verità. Bene, chiarito questo, torniamo alla nostra simulazione. Socrate si recca da un esperto della materia e ne sottopone a vaglio il sapere domandandogli ti e sti che cos'è? Che cos'è il coraggio per esempio chiede se non sbaglio a Lachete. Lachete risponde dando una certa definizione ora non ricordo quale. Socrate come Lachete dalla sua prima definizione prorompe in una frasi adulatorie sminuendosi di fronte all'interlocutore umiliandosi invece indicando nell'interlocutore un essere eccezionale un individuo sapiente dal quale lui non potrà che imparare e mette insomma in atto tutta una serie di strategiate a sminuire e umiliare se stesso e gonfiare sempre di più quel pallone gonfiato che il suo interlocutore il presuntuoso. Ma così facendo Socrate giunge a esplicitare le premesse da cui parte il suo interlocutore da queste premesse comincia la confutazione dell'interlocutore Socrate dà un altro esempio di coraggio che differisce dall'esempio dato da Lachete e gli chiede ma come dici che è coraggioso è l'esempio che hai dato tu ma dici che è coraggioso anche l'esempio che ho dato io ma allora ti contraddici quale delle due è coraggio e insomma in questo modo l'interlocutore viene avvolto da una serie di domande di risposte cade in contraddizione e così via l'obiettivo è la puria la puria la letra significa strada senza uscita cioè Socrate vuole porre l'interlocutore in una situazione di autocontradizione o perché gli fa affermare qualcosa che è contraddittorio con le premesse da cui l'interlocutore è partito o perché gli fa affermare la verità di proposizioni contraddittorie insomma il risultato è nei due casi lo stesso la purificazione in greco catarsi che è l'eliminazione dei pregiudizi si badì bene alcune delle idee che l'interlocutore può avere possono pure essere giuste il problema non è questo il problema è che l'interlocutore si mostra sempre non in grado di giustificare la validità del suo sapere ecco perché è un falso sapere il problema è un problema metodologico quindi bene eliminata la ricerca possiamo avviare la fase maiotica ma prima di avviare la fase maiotica vediamo due interessanti caratterizzazioni di Socrate Socrate viene definito come un tafano per la sua tecnica dialettica il tafano la mosca cavallina che punzecchia appunto il cavallo ecco è paragonata Socrate viene paragonato o meglio la sua azione alla tafano perché punzecchia il suo interlocutore e ne demolisce in questo modo l'arroganza la presunzione di possedere già la verità quindi Socrate è una sorta di mosca cavallina nel menone Socrate invece è altro dialogo platonico l'effetto che è il dialogo socratico per meglio dire l'ironia di Socrate ha nel suo interlocutore è paragonata alla torpedine marina che da una scossa elettrica in qualche modo si va di bene demolisce o per meglio il pregiudizio dell'interlocutore nel senso che lo smuove da quella pigrizia mentale che gli fa accettare le cose i pensieri le idee i valori senza interrogarsi sulla loro effettiva validità è questione proprio di pigrizia di non sottoporre al vaglio della ragione dell'interrogazione del dialogo interiore le credenze che di volta in volta si acquisiscono o si assimilano e quindi Socrate e Tafano e Socrate e Torpedine abbiamo concluso questa prima lezione raggiungendo quindi questo primo risultato l'ironia è una tecnica di dissimulazione che mira a porre l'interlocutore nella condizione più adatta che è quella di intraprendere una ricerca la ricerca della propria verità bene consiglio la visione di questo video è un video che dura pochi minuti che è tratto dal film del 1970 di Roberto Rossellini su Socrate in cui Socrate incontra Ippia e incontra Eutifrone e ci sono proprio gli esempi del dialogo socratico sia per quanto riguarda la componente ironica che per quanto riguarda la componente maieutica qui ho messo un altro ecco qui ho messo un altro spezzone del film dove Socrate appunto pronuncia la famosa frase del Sodio non sapere questo è tutto per il momento vi ringrazio a presto